Allora oggi il busto del level up è... Jungle Juice Tropicale Oddio E' questo quello del Masseo Quello del Masseo che spawna su Instagram Quello che fa esotico Fresco Fra te sono il bando Corsa e sono il bando Fra te sono il bando Vabbè qua non serve andate e corsa Perchè il problema non sarà arrivato C'è sta già un problema E dimmi Marzona narrami subito sto problema E fate attenzione andannate Che se... Marcia Staci vostra Che cosa... Che cosa... Su quella rosa poi dritto per dritto dopo il faro Sì 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 dritto Ma non ci arrivo Madonna so il mago so il mago Easy clutch Oh no sono i loro grossi warride infinito Dai Nooooo So positivo che questa la clutch a mondo secondi o sai Possiamo stare nel chillong Naggia alla madonna Orca madonna è brutta eh Allora fammi capi subito perché il maestro si sta a lamentà Oh madonna santa eh Come iniziano Ok Guarda guarda Francesco Marzano da Bari Roma e Milano Porco Dio Mamma mia ma questa è giftata ma come fai a non farlo Zio L'ho fatto anch'io Io sono caduto di no 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 Lo fa Lo fa Lo fa Che tumore Bravo Bravo ma Mi sa che attacca il volante porco Dio No 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 Non ho fatto apposta No non mi sale più la macchina Porco de Cristo De maledetto satana maledetto Porco di uso il mago Porco di me devo fa la pompa Fermate Mamma mia quando sono forte Mamma mia quanto so forte su sto videogioco Si Mamma mia stanna diventa sempre più fini sti cosi Il mio controller che va tutto a sinistra Non apprezza la Addio l'umano Però manco a fare così l'umano Cioè non me lo puoi far diventare duro così in streaming So pazzo si accelera No 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 Si Tanto tanto bisogna staccarmi Ah 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 Non mi rallenta la macchina Aiuto ma che cos'è sta boi Sta roba ZAZO 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 Porco di No ZAZO me se blocca la macchina Guarda impazzisco ti giuro Aspetta aspetta Vai di vai di vai di Ammanna a me sdrogo Da pazzi Tottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottottott grazie di tre papa grazie di 11. Easy Glaccia. Frate ma questo è minuscolo by ma è minuscolo come fai ok no 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 ah ah ah. Perché chi è messo così tanto? tu arrivi così e me e te lanci così ma i amaci unito pazzo e dei persona che poi è possibile fermare pregio lo star c'è chi paura e lo prenderei così no no frate questa ti fa girare la macchina sto pezzo di formaggio di merda ti fa girare la macchina qua tocca fa così comunque no 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 calma easy primo indiscusso al momento mi serve una botta grazie ale grazie per il 17 chi va grazie per il sa ok grande grande giro piano 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 ma sì non me di cos'è sta roba una ragazzata pro bro tell me bro no a rifaccio ma questa era abbastanza una cazzata questi sono questi sono palesemente i momenti quelli che mi infastidiscono a me porco dio me sei bloccata la macchina un'altra volta ma ne si facci ma ma porco di ma si mettono la fine porco dio ma trollato la frate sti warride mi sembrano storti in culo e sto storti alla fine ma è che porca non l'interessi oddio continua a cadere in acqua oddio continua a cadere in acqua oddio o lì giù c'è il tiro e jimmarza ha concluso in prima posizione 10 vabbè arriva secondo easy facile grande faro vabbè però questa c'è tu ma non so quelle le velate in quelle difficili sono col motore tocco che senso col motore ecco con la moto a con la moto so belle tumorali ma c'è formula marzo non mi parla di glide per favore che l'ultima di costruire un'ora e mezza per favore ok frate questa già sembra caliente l'umaca non si vede a stare all'entrata questa cosa è bellissima non so cos'è ma è bellissimo questo amico ma grosso carro armato dei poni di j taz ecco la mamma cingolata questo ma va tutto storto va porca la madonna porca si che trigger vai dritto e ti si blocca dei cosi oh porco dio ragazzi dovete girare mi sa c'è la c'è la ma praticamente di fare il 360 esattamente se questa navi io porca la madonna non mi puoi mettere la prima che è così facile che sto lì con le palette poggiate ma un po più fuori eh frate mo se inizia mo se inizia già c'è flashback dell'afghanistan con calma cristo fra non so che tipo di spasmo al cervello che vado dritto però pensavo di darti più potenza scusa ma anche a far così la di fa no ma la di fa tutta defila sennò non c'è la velocità per arrivarci al secondo frate è un buvo io pianta me già un buono sono cerino in capoccia me voglio pianta porco oddio va bene a li do solo un troione su sciapalle frate no e poi io let me che basta dare più mostro ho fatto prima dell'entrata del perché vado a sinistra Tieni le mani sul volante quando guidi Sdrogo Sdrogeggiante Non tenevi ferma su sto coso del me No no Perché era giusto No Frate Frate lo potevo fare per la madonna Oddio Gira Perché Non c'è la madonna No marzo finisce malissimo Marzo No Che cazzo Regà regà aspettate Regà aspettate ve ne prego C'è l'umanità che sta là No 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 Ok Ok frate Immaginate che la mia faccia è Facchinetti E il mio pugno destro è McGregor Cerca di cambiare marcia quando arrivi Alla fine della piattaforma psicomolecolare Grazie sempre che asperi sei Ma ti pare io che mi devo ferma questo stronzo Non dirmi cosa fare Non dirmi dove andare No no non cade non cade Oddio ma solo te sopporto più Oddio Puppatemi la fava Perché io sono Un'idea Poi volevo dire anche che Prima di partire calcola La forza di gravitazione universale E la generazione Di psicomolecolare Del poccodio Di merda bastardo Eh ci avevo pensato E ci avevo pensato E ci avevo il turbo Eh perché non puoi prendere Regà c'è qualcosa di strano In questo tunnel Scivola Movimento di bacino No ragazzi ma aspetta No E' più difficile frenare Che non fallo dritto Comunque Cioè frenare tu quella cosa È impossibile Sì Cioè detente Prima fallo dritto Ah zì ma so è il mago Come cazzata Ah zì c'è C'è un canale C'è un canale youtube morente C'è una stempiatura clamorosa E sto al quattrocentesimo episodio Di gare di gta Sono mostruoso Ma come per usare il lanciafiamme Nani Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia La rockstar deve prendere fuoco Eccolo Inizia Ma a me non me lo usa il lanciafiamme Eh no Pure Cioè io lo uso ma non lo usa Quindi c'è che la gara sia Merocheggiante Mamma mia È letale sto camion Sì sì Ma No No frate No 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 Cos'è sta roba Questo è il tumore che tu devi fare Guardi tu hai sparato Se no casca Sexy Bomba sexy Gantesca Ma Cosa 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 Ah c'è il traguardo Ma però no Via Allora non voglio Non voglio dire Perché quello che ci avrà i dati Sarebbero troppe cose Gigi Giammar Giammar Cosa 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 Non te Girà Non te Girà Che Cura Fer Fer St Trai Cosa 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 Cosa